La Figaro Opera Society è un'associazione che nasce nel 2008 per valorizzare la musica classica e la musica lirica con un occhio attento ai giovani talenti. Si avvale di un team a livello internazionale che permette di avere sempre spettacoli di grande qualità. All'interno del Siracusa Classica Festival propone quattro concerti di musica classica e lirica che saranno proiettati, saranno i streaming il 28, il 29, il 30 e il 31 dicembre all'indirizzo www.figarooperasociety.com slash concertseason slash o al portale www.webmarte.tv. Questa iniziativa è in collaborazione con il distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta del Rotary International, in collaborazione con il circolo Unione di Augusta, Naxos in musica e con l'associazione Sulidarte. Ecco tutti insieme per promuovere una raccolta fondi a favore della missione Ilula. In realtà è un'opera meritoria, centrale è la creazione di questa parrocchia che è stata fondata nel 1939 dai padri della Consolata che conta oltre 24.000 km2, 40 villaggi e 100.000 persone. Lo scopo è quello di portare alla realizzazione una scuola materna per orfani e per ragazzi con diverse abilità. Infine ringraziamo per il sostegno economico l'assessore Maglio Messina dell'assessorato turismo, sport e spettacolo della regione siciliana. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.